Con l'allenatore del Grosseto Luigi Consogna, a termine di Folloni Cagavorano Grosseto, terminata 0-2 per i Biancorossi. Allora chiediamo intanto al mister se è contento del risultato, ovviamente penso di sì dopo due pareggi consecutivi e la prima vittoria dal suo arrivo. Sì, è stata una bella partita penso, è stata una partita dove abbiamo fatto un grandissimo primo tempo, sia a livello tattico, a livello tecnico, a livello agonistico. E poi il secondo ovviamente abbiamo un po' gestito la partita in alcune situazioni, poi ovviamente ci sono anche gli avversari che se Kernezzo fa gol su quella super giocata manca ancora qualche minuto e quindi si può andare sempre in difficoltà, però la squadra si è aiutata. Oggi siamo stati squadre, lo dissi già a Figline, dopo Figline, che questa squadra ha dei giocatori, degli elementi che se riescono a essere uniti, non che prima non lo siano stati, però che se riescono veramente all'interno del rettangolo di gioco a essere uniti, aiutarsi con l'arto, sopperire all'errore del compagno, si può diventare forti. Perché comunque hanno tutte le qualità per poterlo fare e oggi l'hanno fatto penso in maniera perfetta. Chiedo ai colleghi se ci sono domande. Allora, Iuri. Iuri Galgani, Grosso Tosport. Gigi, una sola squadra in campo secondo me per lunghi tratti della partita. La mossa di Caponi ha pagato subito, però prestazione proprio corale, sono d'accordo con te, ha detto bene, prestazione di squadra. Molto bene anche Benucci nel ruolo di Marzielli, che non era facile insomma. A Massi e Benucci gli ho detto che è l'unico per caratteristiche, per fisicità, che poteva sostituire Edo. Lo vidi in Coppa Livorno, che giocò in quella posizione, prima della partita nella riunione tecnica gli ho detto che non doveva giocare come Livorno, perché se no non saremmo mai usciti dall'area di rigore. Comunque è un ragazzo che ha grandissima forza nelle gambe, ha qualità, è forte di testa. È un giocatore che forse, spero che questo gol l'abbia sbloccato psicologicamente, perché è un giocatore che ci può dare tanto e può risolvere tante partite. Altre domande? Paolo Sparro, TV9, buonasera mister e complimenti. Due domande, le chiedo proprio di commentare non solo la prestazione di Caponi ma anche quella di Benucci. Ci è piaciuto tanto, almeno dal nostro punto di vista, perché ha svariato tanto e quindi ha permesso al Grossetano di giocare in maniera diversa da come gioca quando c'è Marzierli. La seconda domanda può sembrare fuori dal mondo, ma insomma i tifosi grossetani sono contenti. Tre punti recuperati in un colpo solo a Livorno e Siena. Sì, vi sembrerà un paradosso, ma io la classifica non la sto guardando. Non la sto guardando perché siamo nei play-out, magari avrei preferito vederla dopo la vittoria di Domingo col Trestina o a Figline. Ho detto che finché non c'è la prima vittoria non la guardo. Stasera la guarderò, ovviamente Mangio ha detto che siamo ancora nei play-out, quindi non c'è da festeggiare adesso, ma da martedì rimettersi sotto perché sappiamo che abbiamo vinto una partita importante contro una squadra forte e questo deve darci grandissima autostima, grandissima forza su quello che possiamo fare nell'arco del campionato, che ad oggi è elevarci dalle posizioni basse. Sulla prestazione di Benucci, l'ho già detto, comunque è un giocatore che lo vidi l'anno scorso nella San Giovannese contro il San Donato, mi impressionò e penso che il Benucci vero sia quello di oggi, non magari quello che fino adesso aveva dimostrato poco. Altre domande? Giancarlo Mallarini, Maremma Oggi, Gigi, sabato nella presentazione di Caponi avevi detto che avrebbe portato personalità, avrebbe portato spirito di squadra, ma è possibile che un solo giocatore possa trasformare una squadra come quella del Grosetto domenica scorsa che sembrava addormentata e invece oggi ha strameritato questo successo? Guardate, a volte le caratteristiche, le qualità dei giocatori a volte ci si nasce e lui è ovvio che è questo giocatore che avete visto oggi perché comunque secondo me, anzi a livello di condizione fisica è ancora un po' indietro però come potete notare è un giocatore che comunque aiuta in mezzo al campo, si arrabbia, si incazza però ho visto che oggi sono incazzati Sabelli, Possenti, Gretella, quindi ci sta che possa essere una catena dove ci si può tirar fuori qualcosa da tutti, magari anche con l'arrivo solo di Andrea che comunque non è che posso star qui a presentarlo io, la carriera parla per lui, ovviamente la paura diciamo quando prende un giocatore di 36 anni è la tenuta fisica, come avete visto oggi ha fatto una partita gagliarda ha fatto una partita tosta, poi ovviamente non si può pensare che vada a rincorrere tutti perché poi le caratteristiche sono quelle, anche quando aveva 28 anni, quindi penso che comunque un giocatore importante ci ha dato tanto, ci potrà dare tanto, libera da responsabilità altri giocatori che oggi penso abbiano reso molto di più rispetto alle altre partite Ultima domanda Buonasera mister, Paolo Franzolti in Reno quando dici libera altri giocatori da alcune responsabilità immagino uno sia Gretella che ho visto hai guidato molto dalla panchina oggi, anche perché in questo campionato ha già cambiato spesso tante posizioni quindi magari ha bisogno anche lui di essere un attimino risistemato come vuoi tu perché anche Riccardo è un giocatore molto importante poi l'infortunio di Volcano che non ci voleva in quel momento lì immagino la scelta di Aprile come difensore centrale insieme a Possenti è stata una cosa proprio del momento poi ha fatto bene ragazzi tra l'altro sì sì, Lorenzo ha fatto molto bene, è un giocatore che mi piace tantissimo per come si allena per l'attenzione che mette ogni allenamento anche nel cercare di migliorare vi devo svelare una cosa, suo Aprile difensore centrale me l'ha consigliato Gianni Di Meglio durante due settimane, appena arrivai, si parlava delle caratteristiche dei giocatori secondo lui poteva fare difensore centrale ovviamente con caratteristiche diverse da Daniele, da Volcano perché ha personalità, è forte di testa, è bravo nell'uno contro uno e ovviamente ha sempre giocato a centrocampo quindi quando un po' questi giocatori che nascono centrocampisti vengono portati dietro a volte si può rischiare anche un po' di fare l'errore di metterli in quella posizione però come ti ripeto è un ragazzo molto attento ha fatto secondo me un'ottima partita quando è entrato ma veramente devo fare i complimenti perché non era facile anche perché poi loro sono andati a due davanti con Pino e Deste e secondo me lui Possenti con Caponi che schermava davanti a loro secondo me ha fatto veramente bene Grazie a tutti Grazie a tutti